Giù i vitalizi, ad annunciarlo il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto annuncia una legge che ridurrà i benefici attraverso il contributo di solidarietà. Vado avanti, non ha nessuna intenzione di gettare la spugna il presidente dell'ANCE di Reggio Calabria, Francesco Siclari, oggetto di intimidazione su un cantiere nella diga del Menta. Rissa a scuola, schiafi, pugni, calci e coltellate, mattinata di follia davanti all'istituto alberghiero di Villa San Giovanni, ferito grave un diciassettenne, fermato un albanese. Ditelo alla C, a Vibo la storia del piccolo Pasquale, nato con una malformazione al cuore, l'appello dei suoi genitori, aiutateci, mentre alla Mezzia una donna salvata dallo screening per la prevenzione tumorale. Professione truffatore, soggiorna nei luoghi più belli del mondo, ma quando arriva il conto scappa, la curiosa vicenda di un calabrese diventato l'incubo degli hotel di lusso. Ben trovati con l'informazione di la CNews24 e benvenuti all'edizione serale del nostro TG. In apertura alla politica, il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, parla per la prima volta dopo l'esplosione del caso legato all'aumento dei vitalizi degli ex consiglieri regionali e annuncia una legge che li ridurrà attraverso il contributo di solidarietà Riccardo Tripepi. Il presidente del Consiglio, Nicola Irto, per la prima volta dall'esplosione del caso, spiega quanto accaduto in ordine all'aumento dell'1% dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. Un atto burocratico perché la legge prescriveva quello. Anche su questo e sulla possibilità di evitare quell'aumento lo si deciderà nella commissione competente, dove ci sarà l'ufficio legislativo che valuterà la possibilità e la costituzionalità di un intervento che vada a modificare quello che qualcuno definisce un diritto acquisito. Insomma, io vorrei fare passare un messaggio. Oggi i consiglieri regionali non hanno vitalizio, non percepiranno un vitalizio. Nelle massima misura in cui si potrà intervenire sul passato lo si farà, ma lo si farà nel rispetto della Costituzione, delle regole e delle leggi. Per il passato e dunque per ridurre i vitalizi sarà presentata una legge che dovrebbe introdurre il contributo di solidarietà, mentre per il sistema contributivo futuro stanno arrivando diverse proposte che dovranno essere armonizzate. Sta presentando sul passato un'importante legge che presenteremo tra qualche giorno agli organi di informazione, che va a toccare, così come altre regioni hanno fatto, su spinta anche di quel cosiddetto decreto Monti, i vitalizi passati con un'idea che è quella del contributo di solidarietà. Altra cosa è un percorso di legge più complessivo. Ce n'è uno presentato da giudice Andrea in Commissione. Dalle notizie che mi sono state date anche da altri capigruppo, ma anche da altri consiglieri regionali, ci saranno anche altre proposte che verranno depositate in Consiglio regionale. Riccardo Tripepi per la CNews 24. Ed è determinato ad andare avanti il presidente di Ance Reggio Calabria, Francesco Siclari, dopo i danneggiamenti subiti alla sua azienda che lavora all'impianto di potabilizzazione della diga sul menta. Noi lo abbiamo intervistato. Non voglio mollare, non voglio distruggere la storia della mia azienda. Voglio che questo settore vada avanti perché chi è preposto, parlo della politica, parlo delle forze dell'ordine, solo con il lavoro si combatte questi fenomeni. Andare avanti e non mollare è questa la strada che ha intenzione di percorrere Francesco Siclari, presidente di Ance Reggio Calabria, all'indomani del furto e danneggiamento ai danni dell'impresa, della quale è titolare per l'impianto di potabilizzazione al servizio della diga del menta, per un danno pari a circa 80.000 euro. Ritengo che non sia intimidatorio, come qualcuno ha scritto, perché io non ho ricevuto nessuna minaccia da parte di nessuno, almeno in questo quantiere. Quando è stato fatto abbiamo immediatamente sempre denunciato negli anni, la mia azienda ha oltre 50 anni di storia, prima mio padre e poi io abbiamo sempre denunciato questi fatti, non abbiamo mai mollato, come si suol dire, barcolliamo ma non molliamo. Un episodio che colpisce l'economia sana della nostra regione, ma che non frena la voglia di lavorare per il bene del territorio. Noi abbiamo immediatamente ripreso le lavorazioni, tranne le prime ore dove le forze dell'ordine hanno fatto le prime indagini, i primi sopralluoghi, noi subito dopo abbiamo ricominciato a lavorare, perché questo non deve essere un evento che può fermare la nostra attività. Noi continuiamo a lavorare seriamente nella legalità, non diamo da mangiare a parecchie famiglie. La cosa che mi ha un po' destabilizzato moralmente è il fatto di vedere sul viso dei miei operai un po' di delusione, però loro stessi mi danno forza per andare avanti. Che cosa vuol dire per la nostra regione dover assistere all'ennesimo episodio del genere? Io dico che chi è preposto a fare i controlli e a reprimere questi eventi deve riflettere e dire vediamo insieme cosa vogliamo fare per cercare, secondo me, cercare che non si estirperà mai questa malerba purtroppo su questo territorio. Rossella Galati per la CNews24. Rimaniamo alla cronaca, ieri l'accoltellamento davanti scuola che ha comportato il ferimento grave di un ragazzo di Villa San Giovanni, fermato un maggiorenne albanese. È stato individuato dai carabinieri, l'autore dell'accoltellamento avvenuto ieri mattina davanti all'istituto alberghiero di Villa San Giovanni. Si tratta di un giovane albanese di 20 anni, Neshad Kizza. L'uomo è stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto per le lesioni, cagionate ad un diciassettenne a seguito di una lite. Kizza è stato denunciato a piede libero anche per il reato di Rissa, assieme ad altri due giovani italiani minorenni. Uno di loro deve rispondere anche del reato di porto illecito di oggetti atti ad offendere, in quanto a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello. Secondo le indagini dei militari dell'arma, il ferimento avvenuto ieri intorno alle 8 all'ingresso dell'istituto sarebbe stato causato da una pergressa lite accaduta il giorno prima a Scilla per ragioni non meglio precisate. Il giovane ferito più gravemente sarebbe intervenuto per dividere i compagni riportandola a peggio. Si trova ora ricoverato agli ospedali riuniti. Le sue condizioni sono serie ma non sembra essere in pericolo di vita. Le indagini proseguono per comprendere se vi siano ulteriori responsabilità in merito a quanto accaduto. Consolato Minniti per la CNews 24. Ritorniamo ad occuparci dei tragici incidenti stradali verificatisi in poche ore sulle strade calabresi. È drammatico il bilancio sulla strada statale 106 dove sono già sette i morti dall'inizio dell'anno. Continua a riempirsi in modo inesorabile il bollettino di guerra delle vittime della statale 106, la strada della morte. domenica scorsa a perdere la vita è stato il 39enne Rosario Abate. Sale a sette dunque il numero delle persone che dall'inizio del 2018 hanno perso la vita lungo la dannata SS 106. Cifre abberranti di cui tiene memoria l'associazione Vasta Vittime sulla statale 106. Quali sono allora le soluzioni per evitare che questa strage continui? Bisognerebbe creare una nuova 106 per riuscire a spezzare i volumi di traffico che sono altissimi sull'attuale vecchia obsoleta 106. Abbiamo dovuto purtroppo assistere ad una logica di investimenti in infrastrutture in Italia che ha visto gli investimenti distribuiti all'80% da Roma in su e al 20% da Roma in giù e in Calabria non è mai stato speso oltre il 3%. Quindi noi abbiamo sostanzialmente la necessità di avere una classe parlamentare che per la prima volta riesca ad interpretare il proprio ruolo non nell'ottica di chi va a Roma a delimusinare miseria ma di chi va a Roma a pretendere i giusti investimenti per la Calabria tutta e per la 106. Marco Lefosse per la CNews 24. Adesso la storia del piccolo Pasquale nato con un'anomalia al cuore, quella dei suoi genitori che attraverso le nostre telecamere chiedono aiuto. Non ha neppure un mese e ha già subito diverse operazioni. Pasquale Zaccaria è nato il 29 marzo scorso con una cardiopatia congenita. Poche ore dopo la nascita avvenuto allo jazzolino di Vibo Valencia è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Napoli dove ha subito il primo intervento al cuore. Da quel giorno la sua mamma assiste il piccolo che ha bisogno di costanti cure e assistenza. Lo stanno tenendo sotto osservazione. Non sappiamo ancora quando lo demettono perché dovrà subire ancora altri interventi. Ma di cure e assistenza ne hanno bisogno pure gli altri due figli piccoli. Il più grande di tre anni è stato affidato alla nonna. La più piccola di un anno appena viene invece accudita da una zia che però vive a Roma. Lui è il papà del piccolo Pasquale Zaccaria, barista, 33 anni, è dovuto rientrare stamattina al lavoro dopo una lunga assenza. Un giovane riservato e volenteroso, travolto da un imprevisto, che ha messo in crisi le sue esigue finanze. Ecco perché si appella ai suoi concittadini affinché possano aiutare lui e la sua famiglia ad affrontare questa nuova vita, fatta di viaggi e medicinali costosi, che non può permettersi. Nella famiglia lavoro solo io e non abbiamo alcune possibilità. Speri di ricongiungere la tua famiglia? Sì, il primo obiettivo è questo, di tornare tutti assieme e stare a casa come una famiglia normale. Per dare una mano a questa giovane famiglia di Vibo Valencia è partita una raccolta di fondi avviata da un'amica che è riuscita a raccimulare qualche centinaio di euro. Se ci possono aiutare tutti quanti, noi le ringraziamo con tutto il cuore, io, mia moglie e i bambini, tutti. Cristina Iannuzzi per la C News 24. E ora vi raccontiamo la storia di una donna di gizzeria Lido, che non aveva fatto mai alcuna forma di prevenzione, ma ha accolto l'invito per uno screening gratuito da parte dell'Aspe, ha così scoperto di avere un tumore in fase embrionale. La scoperta tempestiva le ha permesso di salvarsi. Ringraziando a Dio per i miei 50 anni ho pensato bene, insomma, di farle queste visite. E mi ritengo oggi, dopo un percorso non dico facile, abbastanza difficile per me e per la mia famiglia, però ringrazio che, insomma, oggi sono qui a parlarne. La signora Michela Masi si considera una miracolata. Dopo aver trascorso una vita ad evitare qualunque forma di prevenzione, appena compiuti i 50 anni, ha ricevuto a casa una lettera dell'Asp che la invitava a fare una mammografia. Questa volta non ha stracciato la busta come altre volte aveva fatto presa dalla famiglia, dal lavoro e dalla quotidianità, ma si è recata nel centro screening dell'ospedale di Lamezia Terme. Questo le ha permesso di scoprire un nodulo ancora in forma embrionale di pochissimi millimetri. L'intervento immediato ha impedito che si sviluppasse e le ha salvato la vita. Io sono stata abbracciata dai dottori, dalle dottoresse. Io ho avuto un percorso lineare molto facilitato perché mi hanno presa veramente sotto la loro ala protettiva. E ora la signora Michela spinge affinché tutte le donne facciano prevenzione, magari proprio con le opportunità gratuite offerte dalle Asp. Prevenite sempre e fate le dovute visite perché è importantissimo. La diagnosi di cancro non corrisponde a una condanna a morte perché di cancro si può guarire, di cancro si sopravvive anche grazie alla diagnosi precoce. Tiziano Abbagnato per la C News 24. E nella nuova puntata di La C Salute in onda domani alle 13.30, alle 15 e alle 20 sulla nostra rete si parlerà di insufficienza renale e trapianti con il nefrologo Giovanni Mazzitello. All'interno della rubrica ha anche una testimonianza di chi dopo 20 anni ancora si commuove per il suo trapianto di fegato. Noi qui siamo il fanalino di coda per quanto riguarda le donazioni in Italia, rischiamo la chiusura del centro trapianti calabrese per cui i nostri corregionali saranno costretti a recarsi come sempre all'estero, la famosa migrazione sanitaria, questo perché in Calabria non abbiamo gli organi. Non c'è in questa regione una cultura vera e propria della donazione, anzi c'è da dire che sono tantissimi le opposizioni alla donazione, cioè nel momento in cui la donazione si potrebbe espletare i parenti del congiunto si esprimono in maniera negativa e questo è veramente grave. Stente a crescere in Calabria la cultura della donazione degli organi e a peggiorare la situazione c'è il dato sulle opposizioni alla donazione da parte dei familiari, per questo è necessario promuovere la cultura della donazione, un gesto di grande generosità che consente al ricevente di tornare a vivere, come testimonia Antonio Carello a circa 20 anni dal trapianto di fegato. Una volta fatto il trapianto si rinasce un'altra volta, ma si rinasce grazie a quella nobiltà d'animo dei familiari e delle persone che accettano a fare questo. Ero la settimana di San Antonio, il mese di giugno e quando poi io piangevo, portavo nel mangiare e dico no, penso che suo marito dice sta meglio se lei non mangia, però non mi si apriva la bocca, era tanta la sofferenza e tante... Ricevere un organo è un grande dono, bisogna essere coscienti che quando muore qualcuno è una cosa grande questa dare gli organi, tante volte uno si sente la coscienza e dice deve morire qualcuno, hai tanta gioia, però pensi pure a quelli che hanno perso la persona cara, però poi subentra la gioia di una nuova vita. Rossella Galati per l'AC News 24 Ci spostiamo alla mezza terme dove si riflette sull'esito delle politiche del 4 marzo in vista delle amministrative a fine commissariamento in un incontro tra parlamentari eletti e non eletti. Non è un momento facile, la città non sta dando le risposte che mi sarei aspettato, perché dopo il terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose, dopo soprattutto una situazione in cui la politica ne è uscita veramente male, mi sarei aspettato una risposta innanzitutto dei partiti ma anche della società civile, risposta che invece non vedo. E diretto Rosario Piccioni, ex candidato a sindaco nella scorsa tornata e coordinatore del movimento La Mezza Insieme. Il terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose ha messo in moto soprattutto le onida tastiera del web, ma non ha portato a quell'alzata di test che ci si sarebbe aspettati, tanto che in diversi, seppur citati nella relazione prodotta dalla Commissione d'Accesso, si sono ricandidati alle politiche o hanno iniziato a seminare il terreno in vista delle amministrative future. Se ne è parlato in un incontro organizzato proprio da Piccioni, a cui hanno preso parte i parlamentari eletti di Polito del Movimento 5 Stelle e Viscomi del PD, oltre che i non eletti Laura Fazzari di Potere al Popolo e la Democrat Aquila Villella. La responsabilità dello scioglimento comunale non è soltanto dei soggetti responsabili direttamente, ma anche di tutti coloro che l'hanno votato. Nessuno è un pubblico ministero o vuole operare dal pubblico ministero ma capire le ragioni di una sconfitta. E c'è chi invece ha fatto incetta di consensi e pensa ora ad arrivare alla Regione. Il lavoro dovrà ancora continuare, sempre nell'interesse di La Menzia per la conquista della Regione. Tiziana Bagnato per la CNews24. Ci spostiamo adesso a Vibomarina per una bella iniziativa portata avanti dall'Istituto Amerigo Vespucci contro la violenza di genere. Far conoscere ai ragazzi la differenza tra sesso e genere per educarli al rispetto e alla parità tra esseri umani. Questo l'intento del progetto Genere Plurale contro la violenza sessuale e di genere che ha coinvolto i ragazzi dell'Istituto Amerigo Vespucci di Vibomarina. Siamo partiti proprio dal linguaggio, dalla comprensione di alcuni termini specifici, quindi hanno lavorato i ragazzi prima di tutto su se stessi, quindi costruzione della propria identità e poi hanno trasmesso quanto appreso anche ai loro compagni. Un percorso educativo che si è concluso con la realizzazione di un video oltre gli stereotipi. Lo che abbiamo voluto fare con questo video è stato praticamente sconvolgere la realtà, cioè abbiamo associato azioni che di solito compiono gli uomini alle donne e viceversa. Noi è da anni che lavoriamo sulla parità di genere, partendo da questo primo percorso la scuola in genere, creando addirittura un brano musicale, Armonie di un amore urlato, che era stato indetto come concorso sia dalle pari opportunità dall'UNAR e dal Ministero dell'Istruzione. Abbiamo vinto un premio, quindi voglio dire che per noi è importante che i nostri ragazzi e le nostre ragazze abbiano la consapevolezza del loro modo di essere uomini e donne e lavoriamo molto sulle loro emozioni, sulle loro relazioni. Erika Consolo per la CNews24. Di professione fa il truffatore l'incubo degli hotel di lusso perché al momento di pagare fugge via ed è calabrese. La suite sul mare viene sulle 80.000, signore. Signore, se vuole qualcosa di meglio abbiamo l'appartamento reale, 100.000. Io te lo prendo! Non è proprio questo l'approccio di un 21enne di Cropani Marina in provincia di Catanzaro che è diventato l'incubo degli hotel di lusso del nord Italia. Qui si rilassa in costosissime spa, beve, mangia, dorme in suite principesche e poi al momento di pagare taglia la corda e sparisce. Al Mandarin di Milano, uno dei più prestigiosi hotel della capitale meneghina, a due passi dal teatro alla scala, ha lasciato un conto in sospeso per circa 6.000 euro, occupando per due notti la suite più costosa. Stesso copione all'hotel dei Cavalieri di Piazza Missori, sempre a Milano, dove è restato solo una notte. A Cogne, invece, in Val d'Aosta, per quattro giorni all'hotel Sant'Orso, ha lasciato un conto in sospeso di 3.000 euro. Le modalità della truffa sono sempre le stesse. Arriva a bordo di auto costose, solitamente in compagnia di belle donne, si gode la sua vacanza e poi, quando c'è da pagare il conto, inventa una scusa e prende il largo. Sui social le sue imprese sono accolte da cori di incitamento. Hai fatto bene, divertiti finché puoi, sei un mito. E questo è il tenore dei messaggi della maggior parte degli utenti che si è appassionata alla vicenda. Ma la realtà è molto più amara per chi finisce nella rete del giovane truffatore, come è successo all'attrice calabrese Paola Rubino. Mi chiamo dicendomi ciao Paola, scusami se ti disturbo, ma ho bisogno di una mano, mi puoi aiutare solo tu, perché l'altro buco che avevo chiamato mi ha dato buca all'ultimo momento e quindi devo girare questo videoclip per sponsorizzare una crema e quindi se mi puoi aiutare, perché ho già prenotato lo yacht, Monte Carlo, ovviamente lui dice non ti preoccupare dei costi, non fa niente, non è quello il problema, non ha pagato nessuno di noi. Sul set ho anticipato anche 200 Euro, penso che lui abbia fatto tutta questa cosa qui, praticamente in sostanza per cosa? Per farsi la vacanza su questo yacht. Enrico De Girolamo per la CNews 24. A Catanzaro alta formazione universitaria a Palazzo San Giovanni, rilanciato il progetto in conferenza stampa dal sindaco Abramo. Il San Giovanni nasce come fortezza, come castello, poi diventa prigione, non è cambiato tantissimo, l'adeguamento di una prigione a sede di formazione non è facile, non è stato facile, ma per adesso ha funzionato. Lo spostamento dei corsi di alta formazione dal campus di Germaneto al centro storico di Catanzaro è ormai realtà. Il progetto, nato su iniziativa del sindaco Sergio Abramo con l'obiettivo di salvare l'antico nucleo cittadino dello spopolamento, non era nato sotto i migliori auspici. Dapprima la disapprovazione di una parte di popolazione e poi il difficile adeguamento di un complesso destinato ad aria museale ne aveva infine rallentato l'avvio. Attualmente abbiamo il complesso San Giovanni attivato con il suo 70% di potenzialità. Ci sono 16 master, 6 dottorati di ricerca e qualche altro corso di formazione che è stato richiesto mano a mano. Oggi per esempio sono arrivate altre due richieste di svolgere qui la formazione. Nessun passo indietro dunque sul progetto che per lungo tempo aveva alimentato la polemica in città. Il sindaco con la conferenza stampa di oggi ha confermato e rilanciato la sua visione. Speriamo che oggi anche attraverso questa conferenza stampa si preannunci che anche i corsi legali vengono realizzati qui al San Giovanni. Proprio sull'ipotizzato trasferimento della scuola di specializzazione delle professioni legali era infatti montata la polemica. Idea tramontata in un primo tempo anche per via del diniego opposto dagli specializzanti ma che oggi torna a prendere quota. E' una realtà che speriamo di far crescere anche negli anni successivi. Luana Costa per la Cineus 24. Fino ad oggi silenzio assoluto da parte delle istituzioni in merito alla chiusura del castello di Carlo V a Crotone chiuso per precauzione vista la presenza di sfosforite. Il consigliere comunale di minoranza Andrea Correggia è intervenuto sulla questione facendo un invito ai colleghi in consiglio comunale affinché si affronti il tutto. Sono passati circa 20 giorni dalla chiusura del castello di Carlo V di Crotone e ancora non si sa nulla in merito alla data di riapertura o quantomeno agli interventi da affrontare. Questa decisione era stata presa dal primo cittadino ugo pugliese in quanto su segnalazione della parlamentare Margherita Corrado era stato sollevato il problema della presenza di fosforite, una roccia potenzialmente cancerogena. Sulla vicenda dal fronte istituzionale è intervenuto il consigliere comunale di minoranza Andrea Correggia che ha voluto porre un invito ai colleghi. Io per questo ho fatto un appello ai presidenti delle commissioni, sia la commissione cultura che la commissione ambiente, affinché ci si occupi della questione perché io potrei anche occuparmi da solo, potrei anche andare all'ARPA, potrei anche andare all'ufficio tecnico, poi io rimango solo un consigliere comunale. Se invece tutto il consiglio comunale si preoccupa del problema e solleciti chi di competenza è già un gesto diverso, già una forza diversa. In tutto questo i turisti continuano ad arrivare a Crotone e come prima tappa visitano la fortezza o almeno vorrebbero vista la chiusura. Non siamo una terra che si può permettere una cosa del genere e bisogna intervenire subito. Questa è un'amministrazione che sta puntando tanto sulle navi da crociera, ma che senso ha farli venire, far venire la gente da tutto il mondo per poi mostrargli un castello chiuso? Giuseppe Laratta per la CNews24 A Rende inizierà a breve la ristrutturazione della vecchia caserma dei Vigili del Fuoco durante i lavori. Le squadre di soccorso saranno ospitate a Cosenza, una soluzione che però rischia di allungare i tempi di intervento in caso di emergenza e servizi. La buona notizia è l'imminente ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Rende, ma mentre si procederà ai lavori c'è il rischio di lasciare sguarnito questo importante avamposto in cui sono impegnati nel complesso 30 operatori alternati in turni che coprono le 24 ore, chiamati ad intervenire anche a Montalto-Urfugo e nei comuni della Mediavalle del Crati. La squadra verrà spostata a Cosenza. Quest'evento porterà un ritardo nei soccorsi ai cittadini di Rende e dei comuni limitrofi per tutto il tempo necessario per uscire dal traffico cittadino e recarsi fino a Rende della squadra che verrà spostata a Cosenza. Credo che sia una cosa non trascurabile. Come tutti immaginano, in un incendio, un incidente o in qualunque intervento i primi minuti sono quelli più importanti. Fare questa cosa alle porte dell'estate senza trovare un immobile alternativo per ospitare i pompieri riteniamo sia abbastanza particolare. Ci sono tanti edifici comunali sia nella cittadina di Rende sia intorno. Tranquillamente potrebbe essercene un idoneo ad ospitare i pompieri evitando così questo disguido che inizia a breve ma come tutti i lavori pubblici in Italia non siamo certi quando e se finirà. Salvatore Bruno per la Cineus 24. E intanto sulla questione nel pomeriggio è intervenuto il sindaco di Rende, Marcello Manna, con una dichiarazione diffusa alla stampa. Apriremo un tavolo tecnico con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Massimo Kundari e le rappresentanze sindacali, afferma il sindaco, per reperire insieme una struttura adatta ad ospitare i Vigili del Fuoco di Rende durante i lavori di ristrutturazione dell'attuale caserma. E adesso parliamo della scuola con i campioni perché gli studenti della scuola elementare di Papanice, frazione di Crotone, hanno accolto i calciatori del club rosso-blu per una chiacchierata sui temi del bullismo e della sportività. Continua a scuola con i campioni il progetto promosso dalla quarta commissione consigliare del comune di Crotone insieme al club rosso-blu che si rivolge agli istituti scolastici cittadini. È toccato alla scuola elementare della frazione di Papanice accogliere i calciatori Andrea Barberis, Agnello Viscovo, Bruno Martella e Adrian Stoian per una giornata all'insegna del confronto dove gli studenti hanno chiacchierato con i giocatori toccando tematiche quali il bullismo e la sportività. È una bellissima mattinata con questi bambini che sono davvero simpaticissimi e ci stanno facendo davvero divertire. Di questo ovviamente siamo grati al Crotone Calcio e i suoi rappresentanti che stanno facendo questi giri nelle scuole per vivere insieme questi momenti di entusiasmo e per cercare di continuare a portare avanti soprattutto in questo momento la bandiera del Crotone. E adesso il calcio giocato in Serie D perché il discorso promozione adesso diventa esclusivamente un discorso a due. Eboli è già un vecchio ricordo, la vittoria sui campani e la vile aggressione subita da alcuni tifosi rosso-blu appartengono solo al passato. Ciò che resta è la posizione in classifica e la ritrovata leggerezza lassù senza una delle rivali al salto di categoria. La nocerina infatti perde il passo contro la Gelbison e la Vibonese sorride. A due gare dal gong la squadra di Orlandi non deve più pensare a Molossi ora indietro di due punti in gradatoria generale. Non molla di un centimetro invece il Troina che ad un certo punto della stagione sembrava aver tirato il freno a mano e invece è ancora lì al fianco dei leoni di Vipo. In Calabria come in Sicilia è iniziata un'altra settimana di lavoro che porterà al penultimo appuntamento del torneo. La Vibonese ospiterà i cugini già retrocessi dell'isola Capurizzuto mentre gli ennesi attenderanno il portici. Già salvo, Alessio Buonpasso, per la Cinus24. E con l'informazione per il momento ci fermiamo qui. Un buon proseguimento di serata e arrivederci. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. La Cinus24, edizione giorno alle 14 e 15 ed edizione sera alle 20 e 30. La Cinus24, la Calabria che fa notizia.